Tutte le persone, compresi altri youtubers, fatti e luoghi, sono puramente non casuali. Preghiamo i suddetti di non ritenersi offesi, in quanto l'unico scopo del canale è di intrattenere e di ridere. Vi ricordiamo comunque che tutti i diritti vanno ai veri autori dei propri video. Buona visione. Questa è l'ultima volta che mi fai fare questo intro del cazzo. Suka. Hai ricevuto Rage Candy Bar da Procione. Dio. Raise the level of a Pokemon by one. Caramella rara. Procodoi. E rieccoci qua a Rustboro City e direi di... Ah no, i Pokemon sono già curati, perfetto. Ora ce li alleniamo a dovere prima di affrontare la zoccoletta. E rieccoci qua, recazza. Adesso andiamo a sfidare la zoccoletta. Però mettendo avanti qualcuno di putente. Parte la sfida di Obi-Wan Kenobi. Vai, tu muore. Muori, 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 muori. Sì, cazzo. Bastardo, mi ha bloccato avanzi. Ma sei un figlio di Procione. Vediamo quanto crepa. Bam. Cazzo. Punto, 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 Nnno Diooo Allora Abbiamo un suca Di tipo normale coleottero Con shell armor Statistica del cazzo E raffutatore E sanguisura Attenzione Inzaghi avanti tira goal Spero ci sia qualcuno Ciao Vabbè dai scherzo Entriano Orobas No Corvo di merda vai via Spam Ragrar Vaffanculo Una pokeball Si Aspetta cosa Rapide artigli Ciao bello Ah non mi sfidi Chi è questo No aspetta Dattalion Deve essere Il coso Si va bene ho capito li seguo perchè Se no non va avanti il gioco Cos'è stato? Sento una presenza Complimenti Tu Chi? What are you doing here Ok lui è Gliss Ciao sono Kilwa da Hunter Hunter Kilwa manda fe cosa è quel Un braccio amputato di Deoxys No è bellissimo Non potete capire Si Chi sei tu? Oh tu sei guida Sono Dantalion Ah ok Ha posseduto il corpo di sto tipo qui Perfetto Perfetto Non mi piace affatto E sono contro Daemon Beti Belial Groudon No è Broc Fuso Groudon Si Muori Bastardone Doe ma Carani octa Ancora Asmodeus Ah si? Vediamo che è il più forte Usare raffurzatore Bastardo Blisca carani octa Kamboku Hadouken Se non mi sbaglio Dico Se va a Mentania Cosa? Perchè? 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 Cosa c'entra? Oh Mio Dio No non ti voglio sfidare Ah tu sei Pestilenza Bel nome Davvero Devi esserne fiera Come Come Tarzan Horseman Pestilence Che Che O tutti i nemici Sono quelli di Star Wars O questo gioco non ha senso Ha delle spade laser al posto delle dita Mul Che Un Grimer fatto Evviva Si Viva la bamba Send attack Send attack Send attack Manda qui il fish eh? Perfetto Perfetto Alla fu Ackbar Bam E fu così che vinsi E qui c'è una caverna dove Perchè? Taglio I'm Rally De looter Si Per pagare cari le cose Barboncello eh? Si Birch non me ne frega niente Ba 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 Ma mi catturo un po' come un inutile per taglio e basta tipo Lui Ah Ciao bello Contiene Magikarp Surf eh? E direi di finirla anche per oggi Ciao bello Ciao bello Ciao bello Ciao bello Ciao bello